Oggi per questo vlog vi porto in un ristorante tipico milanese, nella bassa milanese, nelle campagne tra Meleniano, Lodi, insomma a sud di Milano. Si chiama L'isoletta, il ristorante, e abbiamo mangiato davvero bene. Voi come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube di My Better Life e commentate il video qui in basso. Ci vediamo con il vlog! Ringrazio innanzitutto gli amici Luigi e Orazio per avermi portato in questo ristorante. Si inizia subito dai sottaceti, per poi passare ai nervetti con la cipolla rossa. Una vera prelibatezza, io li ho adorati, li ho letteralmente adorati, si scioglievano in bocca. Affettati misti, coppa, pancetta. Poi ci sono le lumache avvolte nella pancetta e cotte alla griglia, buonissime, ve le garantisco. Formaggi, come non mangiare il gorgonzola, il formaggio sotto le vinacce. Il salume, la particolarità è che te lo portano al tavolo e te lo affetti da solo. Il gorgonzola, ragazzi, si scioglie, si scioglie e buonissimo carpaccio di anatra, il mio preferito. Per poi passare pane, vino, ottimo, ottimo vino. Bonarda, di oltre poco o meno berla. Il cotechino artigianale, qualcosa di meraviglioso. Guardate come si taglia, guardate il grasso che si scioglierà sulle vostre papille gustative. Poi cervella fritte, e queste devo dire che sono state davvero il top del top. Per finire, risotto con ossobuco, non poteva mancare, tortellini in brodo, una cosa tipica, e poi sono letteralmente scoppiato. Come la trippa? Taglia.